L'enogastronomia come eccellenza, difesa della qualità e opportunità di sviluppo è il tema di copertina del nuovo numero di notizie la rivista della regione Piemonte da pochi mesi rinnovata nella grafica e nei contenuti il cibo fra ricerca, tradizione ed economia è anche al centro del convegno in Piemonte con gusto tenuto a Palazzo Lascaris il 27 settembre con la presentazione dei servizi di attualità e approfondimento del numero 3 del magazine Notizie L'enogastronomia già oggi è un volano dell'economia piemontese lo può essere ancora di più in futuro ovviamente bisogna operare scelte strategiche bisogna puntare sulla biodiversità bisogna favorire l'accesso ai giovani verso l'agricoltura bisogna fare un'attività di educazione a partire dalle scuole bisogna fare rete sul territorio con i nostri operatori a partire dalla ristorazione quanto l'abbiamo fatto fino ad oggi e ancora più bisogna continuare la promozione all'estero dei nostri prodotti siamo sulla buona strada la ricetta perché l'enogastronomia piemontese diventi davvero un volano è insita nella storia del Piemonte in Piemonte sono straordinari produttori cose buone di materie prime pessimi comunicatori e allora questo gap si risolve facendo sistema facendo squadra nei territori, nei paesi per una regione che attende un grande appuntamento che è quello dell'Expo del 2015 dove appunto bisognerà mettere in mostra queste eccellenze in un'ottica di sistema bene, l'enogastronomia nel Piemonte è un settore in pieno sviluppo in particolare in alcune regioni le Langhe, il Roera, il Monferrato anche quest'anno conferma un trend di grande crescita da sviluppo al territorio da sviluppo all'occupazione e da sviluppo oltre che ai ristoranti e alle cantine anche a tutti quei negozi di prossimità che vendono specialità non solo alimentari del territorio quindi è un settore che va tenuto in grande conto e per il quale occorre anche fare politiche di sviluppo